Ha visto lo spettacolo? Che cosa ne pensa? Mi è piaciuto molto, sono stati bravissimi. Il doppio, i doppi anzi, cioè questo discorso veramente di molte forme, molte possibilità, un po' questo credo. Ma è stato eccellente perché rappresenta i fantasmi che uno ha dentro. Straordinario, veramente. Cosa le è piaciuto di più? Ma soprattutto la naturalezza e la delicatezza con cui sono stati trattati questi temi, insomma, veramente straordinario. Grazie a Claudio che ci offre queste cose. Intanto la bravura immensa di Pamela Villoresi che è una grande trasformista oltre che essere una grande attrice, la prima cosa. E poi il gioco metateatrale del doppio, dello specchio. Una conduzione molto particolare, quindi un tema intrigante, veramente portato sulla scena in maniera incommiabile. Questo come tutti gli altri, uno spettacolo molto bello, molto bello, interessante come sempre. E questo è un posto in cui veniamo spesso, veniamo sempre e sempre a volentieri. Condivido in pieno, effettivamente è stata una stagione diatrale stupenda e a conclusione è stato uno spettacolo veramente magnifico. Ma direi che si concludi al meglio questa stagione diatrale. Devo fare i complimenti a Claudio Rombolà perché gli attori straordinari. E poi davvero una commedia coinvolgente, una bellissima interpretazione di Pamela Villoresi che ancora una volta veramente colpisce la platea con questa bella impostazione di voce, con questa bella interpretazione. Davvero, complimenti. Il suo spettacolo preferito di tutta la stagione? Direi questo. Credo che sia la migliore stagione di prosa che ci sia in Calabria.